una fiamma al giorno, energie del 18 di ottobre, scegliete la vostra variante, quarzo rosa, rosa azzurra e ametista chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci l'energie del 18 di ottobre per tutte le tre varianti e allora quarzo rosa, qua si materializza qualcosa di importante, un accordo, una relazione trova finalmente manifestazione qui c'è veramente la manifestazione regale, regale di una situazione a cui si lavora da tempo infatti qua si parla di unione, di accordo, potrebbe essere, a me viene in mente la relazione ma potrebbe benissimo essere un accordo di qualsiasi tipo e quindi c'è co-creazione, qua ci sono veramente due elementi che si sono armonizzati e insieme costruiscono la loro realtà su questo piano, quindi c'è veramente la manifestazione, qua c'è proprio qualcosa che si manifesta comincia proprio a costruire, a mostrarsi, questa è una relazione, è proprio una relazione qua ci sta dicendo che c'è un amore che si sta materializzando e trova finalmente il suo spazio, la sua forma, la sua identità qui sulla terra, abbiamo il gatto che dà il suo senso e allora andiamo avanti, vediamo un po', si si avete concluso proprio con, a parte con l'impegno ma anche con fruttuosità, si dice fruttuosità, avete in modo fruttuoso avete concluso il passato, ora si parte veramente per la manifestazione e quindi un qualcosa di totalmente differente da quello che avete sperimentato nel passato e infatti qua c'è totale successo riunione, se si tratta per caso di situazioni in cui non avete una relazione, potrebbe arrivare la relazione quella reale, quella concreta, quella duratura, potrebbe essere un accordo anche di lavoro, mettiamola anche così magari qualcuno invece è felicemente sposato, quindi potrebbe benissimo essere che si tratta di un questione di lavoro ma per le fiamme si tratta proprio di, o di riunione, di unione, quindi aspettatevi meraviglie allora, rosa, azzurra qua c'è un'emozione che porta un messaggio qua è l'anima che vuole comunicare con voi, quindi attenzione a tutto quello che animicamente viene fuori emotivamente viene fuori dalla vostra, nella vostra giornata giornata o successiva o anche, magari lo avete già, è già successo anche oggi sono energie, ricordiamoci di non essere troppo fissi nella, nello schema, però la giornata, diciamo, rappresenta un messaggio animico che va ascoltato per creare qualcosa di realmente concreto su questo piano potrebbe essere proprio una rivelazione un messaggio importantissimo che può diventare concretezza può essere materializzato può manifestare quello che è casa cioè gli affetti e quindi anche qui qui si tratta di relazioni vediamo un po' magari avrete il suggerimento direttamente dall'anima su come andare a materializzare la vostra unione e sarà un qualcosa che arriva attraverso probabilmente anche persone che stanno attorno a voi quindi non è solo un, magari potrebbe anche essere una situazione emotiva ma, qua mi sta dicendo che potrebbe arrivare una parola un consiglio anche solo una frase detta per caso da qualcuno che vi sta attorno e questo creerà veramente, diciamo, un'ispirazione che ovviamente sarà il messaggio dell'anima per poter materializzare la vostra unione vediamo un po' ok, sì sì, guardatela qua si parla proprio di anche qui, assolutamente qui c'è il corteggiamento cominciare a mettere le basi per materializzare la vostra relazione guardate che c'è una giornata molto importante qua perché c'è qualcosa di meraviglioso qui ma è anche qualcosa di meraviglioso anche qui quindi ascoltiamo molto bene cerchiamo di metterci proprio dal punto di vista dell'anima che ascolta le frasi ascolta le intuizioni e crea qualcosa di assolutamente nuovo concreto e manifestato allora, andiamo a vedere ametista regina d'aria qua c'è proprio il senso della consapevolezza totale qua c'è una grandissima consapevolezza che si può raggiungere e quindi un elevarsi elevarsi ai livelli proprio di ascolto di se stessi dell'anima di un'elevazione spirituale fortissima consapevolezza altissima è una giornata veramente potentissima ecco dal punto di vista di energie quindi vediamo un po' eh sì, eh sì rigenerazione finalmente vi siete risollevati da una situazione di grandissima sofferenza di grandissimo come dire sembrava tutto finito ecco invece avete lavorato vi siete rigenerati avete guardato con gli occhi dell'anima tutto questo dolore e da esso appunto è sorto qualcosa di nuovo rigenerato quindi qualcosa di assolutamente che non corrisponde a tutto ciò che era prima non vi riconoscete più e ecco guardate qua non so se proprio è una costante della giornata qua si va a concretizzare quello che è l'affettività qua c'è una relazione che sta cominciando a manifestarsi qua c'è qualcosa che siete talmente alti a livello di consapevolezza siete talmente già oltre al passato state già creando il vostro futuro ed è un futuro che sta materializzando un'affettività potentissima concretissima e duratura solita qua c'è una casa proprio fare casa insieme state creando veramente anche qui vedrete già le prime materializzazioni di un cammino che si sta proprio evolvendo in quel senso lì e se c'è stato appunto qualche qualche sfida qualche dolore qualche frustrazione il cambiamento sta arrivando perché siete rinati a partire proprio da quella da quelle ferite da quelle sofferenze e avete creato equilibrio dove c'è equilibrio c'è unione sperimenterete la manifestazione almeno i primi le prime manifestazioni i primi avvisagli di una manifestazione bellissima concretissima e veramente come dire finalmente solida qua si arriva davvero avete fatto un passo in avanti avete fatto un balzo direi emotivamente nella concretezza e nella consapevolezza quindi qua veramente non potete far altro che manifestare quello che desiderate e si parla anche qui di unione dove c'è equilibrio c'è unione se in altre situazioni c'è qualcosa in sospeso la vostra la vostra forza la vostra forza interiore renderà tutto più semplice e andrà a sciogliere dove eventuali nodi laddove c'è magari c'è stata tensione c'è stato disequilibrio creerete equilibrio ma mi viene da dire che la relazione sarà uno degli argomenti diciamo più quotati per questa situazione quindi diciamo che si parla più di relazione che di altro che di altro